Una partita come da pronostico, comunque onore alla visse con il 2003, arrivare alla Final Four di Under 18. Io innanzitutto mi sento di fare i complimenti a questi ragazzi di Reggio che onestamente sono stati incommiabili e secondo me hanno dei margini di miglioramento enormi. Un gruppo molto, ma molto ben allenato, quindi gli faccio i complimenti. Poi ovviamente all'inizio ci hanno messo un po' in difficoltà con la loro intensità, la loro voglia, la loro spregiuticatezza. Noi siamo stati un po' lenti nel far arrivare spesso la palla vicino a Canesso dove ovviamente avevamo un vantaggio fisico che non abbiamo sfruttato. Poi ovviamente la differenza di esperienze, i giocatori di caratura tipo Markovic, Amar, Scala e compagnia hanno fatto la differenza. Adesso è il finale contro la Lumaca, si tenta questo triplete di titoli giovanili? Ovviamente noi giochiamo per vincerla, questo non ci sono dubbi. Io oggi ho visto la partita, onestamente la Lumaca mi ha fatto una buonissima impressione, sarà una partita tirata ma sono convinto che noi abbiamo tutte le carte in regola per giocarcela e per poterla vincere. Avevo dimenticato di fare i complimenti a Spassojevic che onestamente è stato veramente un bel vedere. Coach, riguardo la Serie C, Sant'Ambrogio dice che aveva giocatori del Gebbione e Santa Caterina, voi dove prendete i giocatori? Ma noi un po' dappertutto, noi non lo so, Rione Fortuna, Caciolino, non ho idea. Dove vuole loro, non è un problema.